Prima mi ha stordito e poi mi ha violentato, è questa l'accusa pesantissima che una trentenne è rivolta al proprio patrigno. Una vicenda delicatissima e coi contorni sono ancora tutti da chiarire, sulla quale sta cercando di far luce la procura di Arezzo, ma intanto l'uomo, un 47enne di terra nuova a braccioline, è finito in manette ma per droga all'interno della sua abitazione, i carabinieri hanno infatti ritrovato cocaina, hashish e marijuana. La storia era partita dalle accuse della figliastra, ancora tutte da provare, ma che avevano dato avvio alle indagini. La trentenne, che abita con la madre, il 47enne avrebbe appunto raccontato di aver subito un abuso da parte dell'uomo e che quando lui le avrebbe messo le mani addosso lei si sarebbe sentita come stordita sotto l'effetto di qualche sostanza. Da qui la perquisizione nell'abitazione dei tre per cercare qualche indizio utile all'indagine principale, ma all'interno della casa i militari hanno trovato ogni tipo di sostanza stupefacente, cocaina, marijuana ed hashish. Per il 47enne due giorni fa sono così scattate le manette. L'uomo è stato poi rimesso in libertà ma con l'obbligo di firma quotidiana presso le forze dell'ordine. La vita di questa famiglia apparentemente normale adesso è al vaglio degli inquirenti che cercheranno probabilmente anche ricorrendo all'incidente probatorio di ricostruire quanto successo.